Smantellata organizzazione camorristica dalla squadra mobile di Roma che aveva investimenti in varie regioni d'Italia frutto di attività illecite. Questa mattina sono finite in manette 29 persone del clan degli Zazo per associazione camorristica, truffa e distorsione. All'organizzazione sono stati sequestrati beni per 400 milioni di euro tra alberghi, ristoranti, commercio a autoverture, scuderie di cavalli, oltre a società finanziarie ed immobili di valore nelle città di Roma, Gorizia, Genova e Caserta. Nella provincia di Roma sono stati sequestrati 18 immobili tra villini, negozi ed appartamenti, oltre a 20 società, 4 alberghi ed un locale notturno nel centro storico della capitale. Nella provincia di Genova invece il provvedimento di sequestro ha riguardato un villaggio turistico sulla colina di Cogoleto, 18 cavalli da corda, tra quali figurano alcuni discendenti del noto puro sangue Maren, numerose autovetture ed uno yacht di 23 metri ormeggiato a Porto Santo Stefano. Grazie. 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 Grazie.